Ciao a tutti amici! Che cos'è che devo dire? Ma carmelo! Devi dire che facciamo parte della City Nature Challenge! Il Muma Museo del Mare di Milazzo è stato selezionato per fare la City Nature Challenge, un evento fighissimo che avverrà nel weekend del primo maggio. Ma cos'è questa City Nature Challenge? Sì, è un'iniziativa a livello internazionale dove tantissime città parteciperanno a quantificare e a vedere la biodiversità sia in città ma anche in natura. Come si fa? Come si fa? Volete aiutare tutti quanti? Basta scaricare l'app iNaturalist sul vostro cellulare e cercare il progetto City Nature Challenge 2021 Milazzo. Mi raccomando, dobbiamo essere tantissimi perché più siamo, più riescemo a fare valere la nostra città. Quindi fortissimi, andate a scaricare immediatamente l'applicazione e a cercare... Nei prossimi giorni vi forniremo anche altri video in cui vi spieghiamo come si usa l'app e che cosa dovete fare per darci una mano e partecipare anche voi a questo grandissimo evento. Quindi forza la natura, forza la biodiversità, forza il Muma e forza Milazzo! Sì! Va bene!